ora ora vò proprio giù, altro è gurulandia, funeralandia si va eeeh tanta roba, eeeh gurulandia ma va a cagare ma non mi riesce a farla normale una volta ho visto una cosa colorata e ho detto che è questa, una gerrettiera di malgioglio degli anni prima quando fanno la puntata e trovano tutti i divani appiccicati io ti sto smutando addosso, chiedo scusa io vorrei dire o vediamo se tu scopri chi ha pisciato prendi il dna cazzo marda gurulandia 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 ovviamente gurulandia dove l'avete preso questo? non me ne frega niente gurulandia ascolta gurulandia mi hai capito bene? signori e signori benvenuti in una nuova puntata di gurulandia vedi hai cialzato le mani l'hai cialzate? no no perché il pubblico non lo vede ma io ho visto prima di dire fai vedere come fai gurulandia a te ti guarda questa cosa Massimo ad alzare le mani no io vedendolo da casa mi viene voglia di proprio di tirargli il microfono anzi infilargli il microfono ma non dico dove no ma perché tu veramente tu sei proprio c'è tutta questa felicità cioè non c'è mai un po' di tristezza un po' di depressione no sì sì capita capita no perché io ho visto come vedo tutte le puntate perché comunque questo è il miglior podcast che ci sia in Italia che emozione ragazzi soprattutto per merito di loro due però perché te ma chi è questa cosa? gurulandia ma vaffanculo ma stai depresso e triste un po' ma che ecco io ti ho visto in una puntata di odio i tempi morti tu sei tu devi stare ma che ho scusa no no ma continuate sto scherzando facciamo un intro depressa non stiamo mai parliamo continuamente allora benvenuti in una nuova puntata questa la tagliamo perché lo sanno sembra che sì sì benvenuti in una nuova puntata di gurulandia oggi abbiamo con noi ancora ancora più triste proprio così anche proprio così ancora con lo sguardo basso così è passata che mi capo signore e signori come quando perché io so io ho visto tutti gli ospiti so che verrà qui anche Crepe sì ecco quando verrà Crepe proprio falla proprio ma perché? perché Crepe? via via no io vi dico solo una cosa io allora innanzitutto io non racconto io dico sempre la verità purtroppo e perché insomma vedi vedi il momento questo è il momento che tu odi io lo fò apposta e io siccome ho avuto dei problemini nella mia vita e sono stato uno psichiatra ho fatto dieci sedute alla decima seduta voleva venire lui con me e GQ ma è vera non è una gheghina te lo giuro a Roma siccome mi ubriacavo facevo di tutto mi drogavo mi spolveravo qualsiasi cosa questa casomai non la diciamo ma diciamo te l'ho già detta piangevo ero disperato non è una cosa finta quindi nei vari tentativi di salvarmi sono andato dallo psichiatra e lì piangevo gli raccontavo ti giuro e lui ha detto ma scusa ma questo c'è che io dove ci sono le prostitute perché quello gli interessava quindi insomma non bisogna fidarsi troppo secondo me di questi psichiatri specialmente quelli che in televisione fanno le star però sarebbe stato divertente fare una serata dallo psichiatra e no perché io poi alla fine non l'ho pagato lui ti ha pagato a te sì sì ma perché ero sempre nella fase del dolore quindi mi sbruciavo tutto io per esempio i vostri ospiti tutti belli io sono un ammiratore non so se sto andando male perché io c'ho una paura che quando vedo la puntata vostra su youtube e poi i commenti sotto ma massacrano noi te li sei no no massacrano diano tutte cose vere che vai a ubriagone del drogato ho visto tutti tutte le tue interviste i commenti sono sempre tutti positivi è vero lui fa se questo programma ha successo è grazie a parte lui è è il precursore adesso però non mi ricordo più cosa stavo dicendo eravamo all'introduzione dovevamo presentare l'ospite ormai l'abbiamo già capito no perché io sto male se non mi viene in mente e lui dicevo che stavo dicendo vabbè andiamo il benvenuto a massimo io non le alzo le mani massimo io voglio iniziare no io veramente fermiamo per la puntata che stavo dicendo prima dello psichiatra che non l'hai pagato questo stavo dicendo ah si io raccontavi delle serate lui voleva venire con te insomma no ma questo l'ho detto ma volevo dire un'altra cosa chiedo scusa oddio comunque massimo voglio iniziare questa intervista con la notizia bomba dell'ultima ora la nomination agli oscar tanta roba ecco per esempio tanta roba è un'altra frase che è tanta roba veramente voglia proprio io non lo so questo ragazzo si dice eh tanta roba eh gurulandia ma va a cagare ma nominesce agli oscar parla normale ma nominesce agli oscar tanta roba fa tanta roba cosa dai nominesce agli oscar no la parola tanta roba gurulandia tutta cose nominesce agli oscar è l'emphasi Marco mi dispiace mi dispiace per questa nomination mi dispiace davvero tanto senti Massimo ma solo te ci posso giocare la schedina sulla vittoria del film? allora qui tocchi un tasto mi puoi dire ecco il che stavo dicendo il champagne il collegamento il champagne e lo stirato io sono un grandissimo ammiratore però vorrei se fosse possibile che magari poi vede questa cosa vorrei però dirvi delle cose possiamo farlo subito lanciamo un messaggio a Nevi ora però mi fai dire eh no perché mi interessa c'è magari un insider in questo momento io capitano è quotato a secondo posto ok a 6 e 50 era a 10 appena uscito le quote ah wow però quello il primo è favoritissimo è proprio ingiocabile a 1 e 7 no non paga nulla sì però magari dopo questa puntata che dove io fra 10 minuti in diretta piccherò lui e che lo picchio e forza non ce la faccio cioè mi sto trattenendo ma lo devo ma non è che lo picchio gli fa male però gli strizzo una palla cosa devo fargli potrebbe capito no a parte di scherzi facciamo così visto che io insomma faccio parte ho lavorato in questo film con molto onore se voi mi date facciamo una giocata in società voi mi date 30% 500 no mi dai i soldi proprio vado io a scommettere perché se ci vuoi io capito mi dai un 500 te 700 lui perché un po' meno e 3000 caro testina di cazzo oh ora veramente sta andando male no ora la facciamo sotto mi scriveranno e per quanto ci vedi guarda come le antipatria a me mi ha sempre fatto care lo so però quanto mi dai di percentuale cioè me la giochi di te però quanto mi dai sto scherzando è veramente difficile che vinca l'oscar perché comunque guardando le quote però per esempio era molto difficile che entrasse era sfavorito anche per entrare nella cinquina e invece è entrato quindi non si sa mai ma te come hai reagito quando è stato candidato agli oscar cioè con quale è stata la tua emozione vuoi sapere come ho reagito eh guurulanti scherzo scherzo ma come ti avrai reagito sono contento felice di tutto ma andrai signori Matteo Garrone è un regista uno dei più grandi registi che c'è nel mondo c'è ora faccio un po' perché comunque a me non mi richiama per un altro film proprio salutiamo Garrone cioè Matteo Garrone sta al cinema come voi state ai podcast eh però lui ma andrai sta andando malissimo questa puntata favoloso ma andrai in America scusa perché c'ho il cappello ma perché c'ho i capelli ma andrai in America o no? c'è problemi in America no ancora sei pieno di capelli tu lo sai ecco guarda io guarda io guarda steppi ecco allora io mi metto il gesso nei capelli cioè a che ora te lo sei messo? certo c'è la Murati vedi? tocca la Murati senti il gesso? eh vabbè però non ti sente nemmeno si vede no è polvere bianca che prima quando stavo male usavo in un altro modo adesso no scherzo io voglio sapere se ti vedremo la notte degli Oscar lui invece vedi com'è c'è proprio tutto è tutto sano si vede bello fresco quanti anni c'hai? 31 31 c'hai la fidanzata? si moglie moglie pure figli? una una di un anno no pensavo dicessi di un altro quindi sei proprio un uomo felice signori ma si vede nel podcast proprio lo trasmette proprio lui trasmette proprio la felicità si 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 tocca io non ti voglio male io sto scherzando lo sai benissimo io ti auguro una vita piena di felicità però non fa male un incidentuccio no ma una cosina una rovetta toccatino e palle capo no un'inciampaturina una cosa che così almeno un mal di denti una cosa così rovetta rovetta ma ti posso fare una domanda noiosissima comunque secondo me forse questa può essere una delle peggiori puntate io lo dico però è che devo fare io l'avevo detto prima è che io non ho argomenti cioè sono proprio no ti voglio chiedere una cosa insomma una cosa noiosa ma come si scrive un film cioè eravate in quattro no come vi dividete i ruoli per scriverlo no la domanda è fatiosa no no passiamo la domanda è fatiosa ma è questione faticosa è che me la sento va bene ce la faccio no io io bisogna vada io vado sei diventato troppo serio allora aspetta tiriamo fuori un aneddoto ho detto sai che adesso lui sta sorpassando te grande mi sono bruciato questa domanda sono contento alla fine sarò io scherzo non avrà detto niente allora io non ce la faccio a parlare cioè non è che non ce la faccio perché per me allora non è cioè voi mi conoscete sapete guardate come sto insomma che secondo voi uno come Matteo Garrone scrive un film con me quindi è quasi insomma è quasi un miracolo che mi è accaduto a me per me è un onore che dice come se scrive un film con Garrone per me Garrone è stato come la fatina insomma capito ma te sei una leggenda te lo meriti di tutto questo no va bene ora questo vabbè lasciamo perdere questo è quasi il peggio di gurulanti va bene no ma nel senso che io con Matteo ero amico da prima poi io perché io lui mi ha chiamato per fare il provino di Pinocchio come attore infatti poi ho fatto la volpe poi di lì mi ha chiesto è nato un feeling io ho un feeling con Matteo perché comunque lui capisce come sono fatto io insomma abbiamo cominciato non è una cosa regolare capito tu sei sceneggiatore che fai un film ti fanno il contratto ti metti a scrivere ti danno l'acconto al soggetto poi scrivi il copione no io con Matteo è una cosa di amicizia e di feeling perché se non c'è se non ti trovi bene è come voi che siete che vi trovate bene fra di voi se non ti trovi bene come fai e allora ti accendi sei libero poi io sempre con molta timidezza molta cioè prima di dire una cosa uno può avere paura di dire ma sarà una cazzata invece quando scatta che puoi dire qualsiasi cazzata che vuoi sei libero perché per arrivare a trovare una cosa giusta devi poter dire tante quindi ci vuole libertà capito di poter un rapporto quasi d'amicizia che mi è accaduto a me con Matteo e quindi di lì è nata questa cosa non è una cosa proprio ufficiale quindi il film si scrive cioè non è che se mi veniva un'idea di notte potevo chiamare a Matteo e dirgli questa cosa oppure no oppure sì oppure no poi ti ripeto è mai successo e il film è il suo cioè capito certo oh ma l'hai vista l'intervista di Pieraccioni vediamo ci siamo diventati proprio sì sì no guarda ma è placato l'intervista di Pieraccioni e a Radio DJ l'altro giorno l'hai vista no hai detto sei diventato super snorbo ah ah di già ho capito sì sì l'ho vista sì Pieraccioni Pieraccioni per esempio Pieraccioni nella mia vita ma non sto scherzando è proprio non so come ditti è proprio più di un fratello perché comunque fra fratelli sorelle alla fine non è detto ti vuoi bene ma non è detto che vai d'accordo senza nemmeno vedersi io con Leonardo cioè proprio è una cosa che va avanti ormai da 30 anni 40 non so neanche io senza che ci frequentiamo e proprio cioè ci sentiamo tutti i giorni non so come ditti però è una delle cose che io devo nella mia vita ringraziare Dio perché io lo devo ringraziare parecchio e soprattutto in questo momento della mia vita ma non per una serie di eventi che io ero a un millimetro dalla morte ora ora proprio giù altro è Gurulandia Funeralandia ma mi piace no perché se no io purtroppo si devo raccontare cose mie io la vita mia io ho accelerato sono andato a sbattere per quello che ti dicevo prima Champagne mi piace però Champagne a mio modesto parere da ammiratore parlo deve stare attento perché arriva il conto e tutto quello che fa lui in realtà e che io ho fatto è tutto veleno è tutta merda perché alla fine non trovi nessun godimento in più in niente perché se no sarebbe troppo sarebbe una giostra se io potessi giocare divertirmi essere sempre brillante mentre invece arriva il buio arriva tutto tutto il nero e poi può arrivare bisogna vedere perché quando lui dice Champagne io parlo di loro perché mi piacciono molto quando lui dice io poi me lo sono scelto io vado sotto i ponti le cose io sono stato diciamo ho avuto una fase con l'alcol che praticamente io facevo avevo una scaletta sa come si dice nello spettacolo c'era una scaletta una scaletta ubriaco un giorno due giorni con mal di stomaco il terzo giorno potevo ribere una vita proprio non potevo uscire di casa senza bere cioè non era alcol bere per divertirsi era veleno per avvelenarsi per distruggersi quindi tutta sofferenza per arrivare fino alla morte poi tu nella vita c'hai dei bonus la sfanghi una volta la sfanghi un'altra alla fine magari non la sfanghi più tipo una macchina ti mette sotto tipo fai un incidente in macchina quindi uno deve stare attento e poi ripeto io quando bevevo io non c'era più nessun divertimento solo dolore piangere soffrire chiedere aiuto cercare aiuto e quindi sono andato molto vicino alla morte il povero Francesco Nuti per esempio ha avuto la sfortuna di cadere a casa che era solo e non hanno potuto salvare e l'emoregia cioè sono cose che vanno dette no perché vedo qui anche questo sbanca c'è tutti questi sui io poi sono ignorante però io dico la mia poi a me che cazzo me ne frega dei commentini ma lui che dice come si permette io dico la mia poi tanto torna a casa e chi vi conosce cioè capito nel senso dei commenti però è inutile che io non mi piace che quest'area di i soldi il gioco e tutto il champagne è la solitudine per riflettere serve perché poi alla fin fine non è non so più che cosa sto dicendo però insomma abbiamo capito ci siamo ci siamo no no perché cioè non mi piace questa cosa di ma non messaggio non so come dire però questa cosa che ti fanno vedere cioè poi i ragazzi allora per esempio posso andare avanti il pò del cazzo allora il gioco d'azzardo ne vogliamo parlare due minuti o no però non si può parlare due minuti il gioco d'azzardo è una roba talmente ampia intanto no vabbè non lo dico no 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 c'è fatto manda la sigla fai un urlitto urlantia ce l'hai lancio no ma perché è complicato poi vedi balbetto le cose però per esempio il gioco d'azzardo cioè allora se tu sei un drogato va bene se per salvarti dalla droga dove ti mettano se sei a un livello alto non ce la fai da solo a guarire non ce la puoi fare devono metterti in una comunità ovvero obbligarti ad andare prendere la droga perché se tu sei in una stanza dove c'è di tutto cocaina quello quello e l'altro sei troppo succube del veleno perché comunque tutto veleno del demonio e quindi alla fine ora il gioco d'azzardo se tu vai in una tabaccheria oggi oggi in Italia mi candiderò è un casino tu ci puoi rovinare dice vada con un po' di sigarette andata per speso 100 mila euro si possa spendere io te lo dico perché lo facevo io io non lo facevo io andavo a tabacchere fa quei numerini poi specialmente se ci bevi sopra non ti rendi conto gratti di qui strusci di là giochi di qui giochi di là per non parlare per non parlare ora chiedo scusa poi magari non vai in onda a questa cosa crocca queste qui io lì fortunatamente ve le le ho schivate questi palazzi enormi dove vedi sale gioco cose giochi che è piena l'Italia e sono tutte sei mai stato dentro no io mai ecco vai dentro così tu lo vedi gurulè e te lo dici più no nel senso che sono costruite apposta per distruggere l'essere umano sono tutte buie e c'è la luce solo i fasci di luce delle macchinette no quindi quello entra la macchinetta ti mangia ti ingoia non ti rendi conto infatti tu escono di mattina escono dopo due giorni escono solo quando andano prendere i soldi ti mangia escono per andare a riprendere altri soldi quando ero giovane io il casino vabbè per andare al casino dovevi andare a Venezia quelli di Venezia non potevano giocare se non più un tanto o non so bene sono un po' ignorante ma c'era dei limiti adesso non c'è nessun limite quindi uno c'è veramente e poi che cosa fanno cosa fanno hanno inventato il nome è ludopatia ludopatia così se la sfangano dalle colpe ma in realtà ludopatia di che io sono stato proprio del film io capitano sono stato perché io sono stato tutte le riprese sono andato con Matteo sono stato tutto il film in Senegal in Marocco e in Tintavaccheria sai che c'è le caramelle le sigarette e basta non c'è niente io non voglio dire i Marocco sono meglio di noi però qui è troppo esagerato troppo quindi un drogato di Giovo è circondato da Giovo basta un telefonino un telefonino tu te rovini te rovini tu metti tutti i siti di scommessina e te bruci tutto perché stavo dicendo questa cosa ah saranno andati sui discorsi Filippo Champagne sbancano si si no anzi no dicevo appunto poi che fanno televisione poi poi chiudo poi tagliate quando viene quando viene crepé mettete a posto mio crepé mi lasciate due minuti quando piccolo e basta no quando in televisione che è una è una tragedia immane quella del Giovo d'Azzardo però nessuno dice un cazzo perché perché ci guadagnano tutti perché il soldo è quello lì che comanda sempre poi ogni tanto dicevo voglio fanno dicevo c'è un programma sul Giovo d'Azzardo qualche servizio alla RAI in terza serata se non in quarta serata e ci mettano sempre la vittima io mi sono rovinato mi sono perso tutto anche girati delle volte ho tappato la faccia sempre loro a parlare non c'è mai ma chi sono chi sono quelli che inventano i giochini chi sono chi cazzo sono quelli che inventano i grattevinci le macchinine i numerini della minchia chiedo scusa chi sono chi sono ma immaginateli ma dove staranno in una stanzina tutta buia tutti come te tutti ramicchiati che li fanno lavorare tutti anche come crepè ci devono essere tipo crepè tutti come si potrebbe fare per inculare questo le vecchine che fanno le macchinette inventiamoci questo giochino di marda chi cazzo sono l'hai mai visto in televisione a parlare sì effettivamente il gioco in Italia ogni 10 metri c'è una tabaccheria piena infestata di giochi e quindi è questo volevo dire quindi la colpa non è di chi gioca perché tu sei fraglio ma sei invaso dal veleno dovrebbero fare tocca fare delle comunità anche per i giocatori obbligarli a chiuderli no basterebbe secondo me eliminare perché solo non c'è una via di mezzo devi eliminare o limitare o regolarizzare diciamo ma poi la gente gioca uguale giochi uguale ma un conto è che se io voglio un grammo di cocaina devo andare a cercare lo spacciatore ora vedi io mi sto pentendo di essere nuovi perché poi dopo non le devo dire certe cose ma lei moglie quando guarderà questa puttana ma che cazzo dici ma sei scemo ma hai detto una bella cosa invece pochi la dicono cioè tanti promuovono gio ad azzardo tutti gli ospiti hai semplicemente hai semplicemente questo sbanca io qui c'è capito io faccio vincere centomila io di qua devi stare attento a di queste cose perché ti ripeto l'essere umano secondo me io parlo per conto mio poi mica ho detto che mica sono nessuno però sono uno che si è mangiato qualsiasi cosa con il gioco e tutte le altre cose perché poi non sono sempre tutte collegate i veleni vogliono la morte capito tu devi arrivare alla morte e quindi ci arrivi alcol droga gioco qui e là se la sfanghi io a me chi mi ha salvato da questa cosa è che io non è che ho pregato ho implorato proprio ho chiesto aiuto e praticamente ora non sto a raccontare le cose però Dio è a me mi è arrivato proprio ho avuto proprio una notte l'ho visto cioè l'ho visto ho sentito il contatto e di lì poi miracolosamente come si dice mi sono arrivate certe cose ovvero incontri moglie poi subito dopo il mio bambino che è il mio cane che mi hanno salvato perché comunque quando tu e cioè dice io gioco ecco sbanca diceva questa cosa dovete giocare ecco lì veramente era da tirargli da dietro perché diceva sì dovete essere cinici quando giocate fate l'ho visto fate nel vostro qui fate una giocata poi se vincete andate se perdete andate via non dovete cercare vendetta ma che cazzo dici ma quella è una malattia è una dipendenza si impossessa di te il gioco se no sono come quelli io non mi drogo mi faccio uno schizzo un tirello ogni tanto il sabato e la domenica poi mi piglio uno spritz poi dieci anni dopo lo trovi imbriaco marcio rovinato con il naso sai quelli col palato sfondato capito quello è veleno e non bisogna dire non si può domare quella faccenda lì capito e poi ti stavo dicendo un'altra cosa ma non me la ricordo più è vero più che altro loro guadagnano non dal gioco d'azzardo ma dalle affiliazioni cioè da clienti che entrano tramite il loro link loro guadagnano da quello perché portano gente a giocare capito non è che cazzo non mi frega io vedo uno così io dico la mia lui ha detto la sua dico la mia poi allora se io lo incontro se spuntasse ora sbanca qui io rinego tutto io do una colpa a te io dico grande sbanca c'è un grandissimo anch'io ti seguo c'ho sempre ma che se passa io sono un famoso io sono famoso proprio per parlare un parlamale dietro io sono proprio un parlamale dietro ma davanti grandissimo senti Massimo abbiamo citato Leonardo prima io sono curioso di sapere come vi siete conosciuti con Leonardo è talmente tanto tempo che non mi ricordo neanche benissimo no però no ci siamo praticamente ora gli anni mi interessa sta roba sì sì a me sì no perché mi piace parlare di morte no allora aspetta ci ritorniamo dopo poi si rinfiona lì dentro nel cimitero ma penso che è già finito si potrebbe fare a che punto siamo ho visto quella di sgarbi che durava tantissimo sì sì ma in realtà ti abbiamo sequestrato a mezzanotte si va via in realtà ti abbiamo sequestrato no no per sapere ora ci si sposta per la seconda parte al cimitero ci si sposta per la seconda parte al cimitero io e il Paci altro mio grande amico e compagno che noi abbiamo iniziato insieme la prima cosa che abbiamo fatto è che abbiamo fatto la corrida nell'83 la corrida di Corrado e si vinse un televisore solo se eri in due e chi lo piglia compreso io ma lui si è entrato in telecomando non ho mai potuto accettare sì sì è vera non è una gag è vera e quindi noi praticamente dopo quella cosina lì si trovò un manager Giancarlo Testi a Firenze insomma ancora come si trovò non mi ricordo però se ci aveva visto via e là ci prese nella sua agenzia e noi entrammo dentro l'agenzia e c'era già Pieraccioni che aveva iniziato prima era il loro artista di questo Giancarlo Testi e c'era la foto e c'era una foto nell'ufficio che era vi ricordate Benigni con Berlinguer in braccio per forza tutti se lo ricordano e c'era Pieraccioni giovanissimo che metterà su un palco e faceva spettacolo si vede con in collo Benigni e di lì già un invidia chiaramente subito guarda lui e poi si aprì un cassetto un attimo che non c'era il manager e si vide il contratto di Pieraccioni e prendeva 300 mila lire a sera e per noi era un sogno dice guarda tu mi intupiglia 300 mila lire a sera poi di lì ci siamo incontrati perché chiaramente abbiamo iniziato a fare gli spettacoli insieme ma non insieme cioè lui faceva il suo poi si entrava a noi si faceva a noi collaborazione e poi io ho un ricordo e magari lui non se lo ricorderà però io sì di un viaggio perché poi io feci anche un film Benvenuti in Casa Cori io lo guardo ogni Natale anche lì c'è una perletta da raccontare ma non voglio rompere il cazzo quando metti il puntale però poi dopo si fece un altro film sempre di Benvenuti e lì con Pierazzitti e Mosca dove c'era anche Leonardo e feci questo viaggio appunto con Leonardo dove ci siamo anche lì una specie di insomma di sai colpi di fulmine non è che deve essere per forza con l'uomo e la donna sono cose che non ti spieghi che però sono tac di fatti per esempio io e Leonardo anche quando abbiamo fatto i film insieme cioè io nei suoi film quasi mai è difficilissimo riusciamo a fare una scena insieme perché proprio non ci si può guardare perché ride si dite più che più lui proprio ma io ho fatto tantissime scene nei film sua guardando lo scotch cioè senza di lui perché non ce la non ci si fa proprio ma non si sa perché capito ma addirittura delle volte facendo delle scene dove per esempio in macchina io così e lui accanto quindi senza guardarsi niente è uguale è nell'aria proprio sono queste cose è questa cosa qui che io ho con lui ed è una cosa appunto che se ti capita nella vita è una fortuna se tu hai un amico così perché rimane in eterno fino a che non crepi insomma sono cose che non possono finire mai poi ti ho detto non ci vediamo per anni non c'è problemi è uguale appena ti rivedi tac perché sono quelle cose lì e te prima del ciclone avevi già fatto qualcosa con lui o il ciclone è stato andato no no tutto dopo io ti sto raccontando tutta la fase iniziale ma io il primo film che ho fatto è benvenuti in casa Cori dove io e il pace eravamo andati ma non so se sono gli altri no no anzi faccio che chiacchierare no perché siccome io vivo solo con il mio bambino gli animali c'è un pappagallo cartaruga non parlo mai e quindi quando incontro degli esseri umani non riesca a stare è magia è andata male perché ci ha incontrato oggi è andata male perché ci ha incontrato vada Marco vate me no no perché mi accorgo che parlo troppo però che devo fare poi ragazzi sono quasi 60 anni sono vivo per un miracolo e quindi senti Massimo ma è vero che negli anni 80 sto piangendo e te ne frega un cazzo ma è come se uno dice ah aiuto e senti volo chiederti ma quella cosa no ti volevo fare torno in mente cose divertenti sto scherzando negli anni 80 ti hai raccontato che quando eri con Pieraccioni al bar facevi gli scherzi a Matteo Renzi quando era piccino è vero? no ma questi sono racconti che poi cioè tu fai uno so fai una cosa poi si sceneggia visto che si parla si sceneggia un po' uno la trasforma ci aggiunge un pezzo di guardi là e diventa una storia mai mai esistita Pieraccioni non c'era proprio ah ok però era vero c'è un fondo di verità il fondo di verità c'è che io giocavo a calcino quello col Paci ok nel periodo insomma alla champagne dell'alcol quindi ero sempre molto alticcio e carico quindi tiri fuori il peggio comunque quindi un po' un diavolato e niente c'era questo Renzi che insomma ti veniva voglia ma no ma mica fagli male torturine così come bullismo si prestava a essere bullizzato voglio dire queste cose non fate cose no Masa beh come si fa da ragazzi a Masa distrusci le nocchine poi però io così per scherzare ho raccontato che lo mettevamo a culo nudo e lo frustavamo con l'ortiga ma non è vero esatto ma sai ho sentito dire anche poi non so se è vero o no se è una leggenda anche questa che facevi l'imbianchino col Paci la gente si buttava via dalle risate no no ma fanno l'imbianchino e il padrone ti paga per imbiancare ahhh io nasco il gesso nei capelli l'ho scoperto così l'ho già raccontato ma di tutti i film poi però il Paci l'ho preso per un periodo perché noi facevamo il cabarelle serate ma non ci si manteneva e quindi continuavo a farlo in bianchino e mi portavo dietro anche lui c'era un fondo di verità no quello che dici te è perché noi poi facemmo Pinocchio in teatro e dopo fatto Pinocchio siccome non è che ancora facevo l'imbianchino quindi una volta perché con il mio babbo lo facevo io in un appartamento insomma in una casa di una famiglia entrammo una mattina per imbiancare e però avevano visto Pinocchio e c'era pure il Paci quindi si che fa Pinocchio cioè ridevano questi libri dicevano ma come l'ho visto sul palco mi vai a imbiancare e poi piglia per il culo a me e da lì si vede forse l'avrà raccontato il Paci tutte le cose cazzate finte le raccontate il Paci io dico solo la verità il Paci io me l'ho conosciuto invece il Paci ancora prima tu ho detto la corrida dell'83 la corrida poi aria fresca giusto che lì mi facevate morire che lui faceva la guardia del corpo la corrida all'aria fresca c'è vent'anni quasi no no infatti dopo prima di fare film però facevi aria fresca ma il Paci amici di bar a San Giusto da ragazzini da piccoli proprio tutta la scuola bar a San Giusto tutto lì da lì e poi abbiamo ci venne questa idea di andare a fare un provino al Puggetto di Firenze dove non si sapeva neanche che cosa fare però si voleva andare quindi stando lì si fece questo provino e si fecero due 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 c'era andava di moda insomma andava di moda anche tutto insomma modo di fare spettacolo comico cabaret e le parodie delle pubblicità no io facevo no perché no rido però io mi sto accorgendo di andare molto male però no no perché è una cosa non mi farò più trovare quindi dopo no perché io e il pace all'inizio abbiamo fatto tantissimi tentativi abbiamo fatto provini perché questo merce poi ci portava a Milano poi noi abbiamo iniziato a fare spettacoli non in Toscana prima nel nord più difficile in Toscano siamo venuti dopo però si andava anche di prepotenza c'era ora però questa non mi puoi raccontare no no perché c'era un famoso festival di comici a Firenze molto bello che era il cavallo di battaglia da dove lì sono venuti fuori anche tanti però era bello perché oltre a che vabbè c'era gente brava era una gara proprio un concorso c'era gente brava il bello è che il pubblico era veramente assatanato e che se dopo un minuto massimo un minuto e mezzo non facevi ridere cominciavano a fare a morte a tirarti la roba aranci quello era il bello del coso però c'era quindi c'erano alcuni bravi alcuni no noi e lo presentavano non so se vi ricordate Rick e Clive di Video Music no che sei più giovane comunque quando c'era Video Music te lo ricordi la televisione Video Music no 31 anni vabbè comunque no vabbè dispiace uguale lo facevano loro noi però si seppe tardi si arrivò lì e non ci si poteva scrivere però si voleva farlo per forza quindi si Rick e Clive ti ricordi inglesi che parlavano due dj della televisione quando c'era Video Music era una televisione che andava per i giovani sempre i video musicali io mi sembravo visto c'è qualche se c'è un nonno in ascolto se lo ricordi comunque allora si insisti 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 dai faccelo fare faccelo fare faccelo fare si distrusse perché lui che non ce la faceva più a sopportare ci disse va bene entrate da ultimo senza cioè fuori concorso allora premetto intanto che quello che noi si salì sul palco e si disse perché si fece solo una scena scoppiò una risata che io non ho mai sentito mai più nella vita talmente forte ma no perché era che si era bravi noi perché era una cosa che nessuno poteva dire noi si fece questa gag semplicissima mica ora questo politicamente corretto non puoi più fare tutte queste cose qui sono impossibili bella questa questa l'ha detta bella ti dispiace un po' di questa cosa era più bella la comicità era un'altra cosa non lo so io non mi permetto di giudicare la comicità la comicità anche qui è un discorso quando io parlo di queste cose io parlo come chiunque da spettatore che vedo e che se mi fa ridere mi fa ridere non mi metto a pensare però è come quando Benigni fece anche lì però sempre roba molto indietro quello famosissimo però anche se siete più piccoli l'avrete visto di sicuro il numero spettacolare che da Raffaella Carrà con i nomi del pene e della vagina che poi quello è un testo di ora non mi ricordo chi insomma quelle frasi lì lui feceva il numero c'era qualche imbecille ma pochi però che scriveva però che volgaricale cioè quello vabbè se uno non capisce nulla non capisce nulla crepe quando viene no scherzo se sente crepe questa cosa veramente ci sarebbe una chiamata a crepe no no ci manca la chiamata a crepe no a crepe ti potete chiedere se scambia i fustini scamberebbe i fustini signora quella gag ovviamente è stata un po' riportata anche nello spettacolo di Pinocchio quando facevi la fatina era un po' simile insomma che facevi la fatina vi dato colpetti sì vabbè ma quella su altre altre cose no perché quella ma guarda che mica solo noi tantissimi comici prendevano le pubblicità era proprio di moda era una parodia noi poi se ne faceva tanti altri si faceva la sim mentre il bambino ma tutte pubblicità vecchie quella lì vabbè basta stavano andando senti ma parlando sempre di bestemmie già che siamo nell'argomento bestemmie allora intanto io ho bestemmiato in televisione poi in televisione all'isola dei famosi sono stato male ho avuto dei problemi perché sono dei pezzi di merda eh fuori o andavano intanto vabbè allora quello non era uno studio ma io ero in un casotto in mezzo alle zanzare e alle urtiche ma non per giustificarmi io vedi io ero collegato ma non rompo i coglioni ma meglio comunque io ero collegato dalla fuori qui cioè fuori dallo schermo io vedi un tavolo pieno di panini con la codoletta eh mi immagino eh ci c'erano coglioni perché lì ricordati che quel programma lì è basato tutto sul torturarti andare vicino a quello che si può fare di legale ma quasi tutta la televisione ora è basata sul torturare l'essere umano sia da quando il ragazzino vedi amici che ti perché sembra una cazzata ma quei ragazzini di amici intanto non gliene frega un cazzo di non è per vero che vogliono che uno diventi cantante famoso non gliene frega niente però te lo mascherano così ma se tu ci fai caso se li guardi il pomeriggio sono lì chiusi con tipo casa tipo grande fratello no cavi sì che piangono tutti piangono e studiano quelle cose lì poi la cosa il massimo della botta è quando il ragazzino gli dicono c'è un messaggio video per te e ci sono i genitori ora io siccome lo so che quando ero ragazzino e oltre a me ho visti tantissimi tu quando tu inizi a fare questo diciamo mestiere cantante quello che tu vuoi e ci credi ma la maggior parte cioè otto su dieci non ce la fanno anche nove e magari anche non hai neanche tanto talento ma non te ne rendi conto se c'hai la passione se uno ti fa un po' credere che sei un bravo tu questa cosa qui ti prende tanto dopo è quasi una piccola violenza perché dice sì ma c'è chi muore di fame c'è tante sì lo so però parlando di questa cosa qui è quasi una piccola violenza quindi te ragazzino ci credi sogni la notte passi tutti i giorni se in più arrivi perché di molte volte il ragazzino ci crede lui i genitori i babboli dice ma vai a lavorare ma qui è sempre così no che ti consigliano di non fare perché sono perché tendono a proteggerti i genitori arriva sta televisione marcia poi qui ora piglierò l'offese che cosa fanno se ne sbattono i coglioni intortano anche i genitori perché se tu vedi il video vedi i genitori che li fanno piangono come dire ce l'hai fatta amore mio figlio mio sei diventato sei diventato cazzo ne so Freddy Mercury cioè sono talmente impresi in questa cosa quindi va tutto benissimo va tutto benissimo ma appena finisce il programma tutti sappiamo che un caccio in culo quasi dieci su dieci spariscono come vive quella famiglia con quel bambino che di ricordi con le foto in casa quando erano amici abbracciati a che cazzo ne so a quello quello lì pelato come si chiama Rudy Rudy quello altro che crepe quello proprio quel mamma mia quello lì via via lasciamo perdere no ma crepe chiedo scusa anzi come vivono copine fotine premini marci cose varie nessuno più ti chiama nessuno più ti chiama quindi poi vabbè chiaramente nella vita si superano dolori peggiori si può superare si supera quasi sempre comunque sono ricordi cioè sono violenzine che ti fanno poi dopo ora sto parlando veramente no no però ecco da lì il penoppe che dicevo partano da ragazzini poi si va sui grandi e via cavie grande fratello cavie marce isola dei famosi quello ho fatto io dove io l'ho già raccontato a tintoria salutiamo ti ci mettano salutiamo che sono delle merde scherzo sono amici Rapone e Titti sono bravi no dicevo anche lì ti ci mettano sempre penso anche a grande fratello anzi di sicuro c'è lo psichiatra finto marcio dalla parte di loro quindi Rema con la sua esperienza non gliene frega un cazzo se stai male anzi perché è quello che vogliano a regolarizzare per otterrarti sempre sull'orlo dell'esplosione perché così fa spettacolo che comunque sia da spettatore io mi diverto a guardare quei programmi solo se litigano se piangano se soffrano è un po' come venire qui a Grunati ed è una macchina tutta costruita per quelle cose lì per quelle faccende lì poi però il dopo perché in poche parole vabbè l'ho detto tutti poi dopo c'è i grandi vabbè uomini e donne anche lì quelli ma gli frega un cazzo dell'amore alla fin fine sì si possono innamorare una coppia stare insieme ma dopo un 4-5 mesi che stanno insieme è troppo forte la tentazione e le luci che si sospette ma lo studio televisivo vanno avanti un po' come messaggini hai visto dei social come si chiamano poi svanisce tutto il serato non se ne fa più e là ma sai che ma separiamo ci litighiamo e vaffanculo stronza e così ritornò lì e riparte la musica va tutto bene però io penso che la verità di tutto questo è che in realtà in televisione sono tutti o quasi tutti eccetto poche eccezioni che ci sono io parlo dello spettacolo Fiorello per esempio è uno che inventa che crea che quello sa fare ma se no sono tutti bolliti sono tutti senza un'idea non hanno nessuna idea e prendono un sacco di soldi ora io mi incazzo come una bestia allora un programma marcio come e queste cose qui lo sai quanti autori c'è ci sarà 7 8 10 autori che non scrivono un cazzo non inventano un cazzo e prendono un sacco di soldi allora io dico facciamo 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 tutti questi programmi ma invece che dare 15.000 euro appuntata a un cretino che deve dire ecco guarda l'autore di quei programmi come fa è ore primo in 7 come cazzo si dice inizio sigla entra poi ragazzino Mario e lei litiga con lui a fine ecco quello è l'autore allora smezza i soldi all'autore e gli dai ai ragazzini gli fai guadagnare allora io posso diceva io cazzo ho fatto due anni ho guadagnato 50.000 euro 30 20 insomma ho guadagnato invece non gli danno niente non gli danno niente gli danno giusto giusto un rimborsino una cosa niente non solo ma vabbè basta capace pagano anche a borde questa lì magari hai visto fanno cioè arriva a dei livelli mostrui la televisione è veramente se tu entri dentro è veramente l'inferno intanto proprio se odiano ma fra dietro io a me una volta non lo posso dire una delle peggiori puntate della storia a me una volta mi hanno chiuso mi hanno chiuso a chiave per paura che entrasse come ti hanno chiuso a chiave tipo paparesta ma chiuso a chiave dove nel camerino no con i guardi anche perché non avevano più interesse ma non voglio fare quello perché se io faccio se io racconto queste cose sembra io voglio fare quello bravo quello io sono un cretino cioè a me quando mi hanno chiamato alle isole famose mi hanno chiamato perché pensavano che dice questo dopo una settimana sbrocca impazzisce picchia tutti offende tutti e di fatti insomma alla fine un po' è data così ma a parte non per quella bestemmia che io non mi sono manco accorto di averla detta però lo sai loro erano talmente convinti perché mica glieli frega un cazzo loro pensano se il personaggio può rendere se fa certe cose loro erano talmente convinte io cioè sarei impazzito e quindi avrei fatto spettacolo per loro che mi fecero un contratto a raddoppio ovvero tipo mi davano ora non mi ricordo quanto ma tantino però non tantissimo ma invece che darmi lì a contratto regolare mi davano una cifra a settimana dice se ci sta la seconda si raddoppia se ci sta la terza si raddoppia quindi io prendevo io praticamente cioè ti ci conviene a rimanere a vita sì perché tanto loro dicono ci conviene perché tanto più di due settimane non ci sta mentre invece io siccome mi scattò una cosa che ti scattò chiacchiere un monte sto sbavando stavi anche per vincere quella quell'edizione no? eh quell'edizione spingeri siccome infatti no siccome io a me mi è scattata una cosa allora io prima di andare lì vabbè ora non posso no no sì sì ma rompo il cane ma che io prima di andare lì sempre per via del gioco e tutto l'alcol e tutte le cose mi ero mangiato tutto vabbè quindi ero disperato avevo paura ad andare lì però mi davano dei soldi avevo bisogno però loro invece li garbava questa faccenda qui però io piangevo tutti i giorni ma telefonavo a tutti come bambini non ci voglio andare ho paura ma perché avevo paura sto un po' sbavando ma ora sbavare a te che sei l'uomo più sano e perfetto e tutto pulito perché lo scusa ma che mi mancano i denti ho perso al GEO no dicevo piangevo con tutti ma telefonavo anche a gente che non avevo mai l'avevo vista due volte tipo io mi ricordo una telefonata a Sergio Rubini che gli dicevo Sergio e tutti mi facevano un po' da padre ma dai Massimo vai vedrai qui e là ma perché avevo paura io avevo paura di come fosta senza bere senza fumare tutte tutte paure quando sono arrivato lì invece ma vabbè ma questo non mi smetto più sto facendo due falli la gente non gliene è fregato di noi no guarda che questo podcast lo guarda tre ore e mezzo ma tu è un po' scherzo ma perché te hai orari di andare a vedere se c'è l'alpe mi sposta davvero no ma che non mi voglio rovinare ma tanto la gente vuole sentirte non noi quindi no no ma che vuole sentirmi mi offenderai io offese no invece guarda te sei amatissimo dovunque non c'è un commento negativo dopo questa puntata ma meglio offendo non noi ti preoccupare tanto io tanto io torno no no dai 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 eri lì eri lì che ti hai scattato che ti hai scattato che dicevo eh che c'avei paura di non poter bere quando sono arrivato lì che io allora mi sono intanto mi sono ubriacato fino all'ultimo minuto di entrare perché quando entri tu arrivi poi sai che arrivi in Honduras e ti chiudono in un albergo in quei due giorni mi sono bevuto l'intero albergo sì sì ma non solo io devi fare scorta tipo come calmetti poi no poi pieno di acciacchi quindi ho le medicine le cose quando sei arrivato lì siccome io ci avevo ora un po' meno ma ero uno super appassionato della pesca e quindi quando sei arrivato lì invece mi è scattata una roba che era il paradiso per me cioè non sentivo né fame né nulla pescavo pigliavo i pesci e tu chiaramente non subito al primo giorno ero sempre più non bevendo più stavo sempre più in forma mi piaceva proprio tanto stare lì perché come veramente stare cioè nel paradiso a parte le torture che loro organizzano di non farti mangiare io per esempio ho preso una ma poi vedi sarto da un discorso a un altro no perché io proprio io mi alzavo la mattina alle cinque proprio non vedevo l'ora di buttarmi a pescare col filo in mano era proprio il paradiso ma si pescava bene lì era facile pescare un parco nazionale era pieno di pesci e che pesci prendevi di tutti i colori di tutte le strisce di tutti i tipi la seconda poi io stavo due volte la seconda volta già peggiorato sì perché poi l'hanno succhiato quel posto ora ci fanno tutti ci fanno anche l'isola dei famosi gli spagnoli le cose si pesca più un cazzo io una volta ho visto una cosa colorata che è questo è una cerrettiera di malgioglio degli anni prima io lo giuro sì robaccia tutto ormai è tutto quindi anche i pesci ma la prima volta era veramente il paradiso per me solo anche lì dice però questo si sta divertendo un po' troppo facciamolo un po' soffrire e mi fecero tipo sparire gli amini le cose e allora perché ora madonna ragazzi ora mi petto queste cose ma le vado avanti sì sì ma siete sicuri ma voglia ma state un cazzo comunque è bello se dopo aver fatto questa cosa su questo podcast il giorno dopo mi vedete bello a canale 5 da amici oh grande io se incontro Maria De Filippi e magari a parte non mi cacherà nemmeno ma se per caso qualcuno gli ha detto ma c'è che lì ha detto tutte queste cose io do l'ho per parte anzi anzi la do a lui se conti di Crepe no Crepe Crepe non l'ho incontro Crepe no è che ho detto qualcosa di male in televisione tanto non ci si deve però c'è qualcosa in televisione deve morire è una merda marcia è tutta marcia tutta marcia eccetto poche cose io ogni mattina avevo in palestra te Fiorello sempre perché Fiorello perché Fiorello inventa quelli lui e chi è con lui vedi che vedi Bigio sono tutti fanno spettacolo quello è fare spettacolo poi negli anni hanno fatto insomma il programma che sta conducendo è cresciuto tantissimo ma vogliamo un'armatica anche questa tanto o poi se la tagliate quasi tutta lascia solo Gurulandia quando fai di Marco sarebbe un capolavoro no vai 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 spara veramente sbavando perché ora si è detto il settore ma scusa ma Parlamento dopo sgarbi mi dimetto pure io che me ne frega vogliamo parlare di 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 madonna questa veramente non so se devo perché qui perché tutti questi discorsi vi sto facendo a voi io li fò ogni mattina a mia moglie a te mia moglie salutiamo non ce la fa più salutiamola l'amica viva no però vedrai che quando vai in onda sta puntata mi ha già lasciato però io passo delle mezz'orette ma non sempre di mattina soprattutto per esempio quando vedo quarto grado e allora a parte che comincia la mattina no la dico questo non so se comunque ora non sto a elencarli tutti perché non ti danno comunque pausa omicidio di resto e cominciano e lo studiolo no gli opinioni il criminologo tu sei il criminologo tu non si sa chi sei ma sei lì lo psichiatra e c'è anche lì sempre o un crepe o un meluzio quello o quell'altro e allora è stato ucciso circa che fa breve è stato ucciso come chiamate Walter ormai Walter è stato ucciso è uscito fuori di casa gli hanno sparato è morto l'inviato che va con la truppettina partono la mattina perché quelli sono pagati quasi niente si fanno il culo e sospine non so gli autori nello studiolo gli promettono cose vanno lì vanno molto prima lì l'inviato davanti al cancello dove gli ha sparato ecco vado avanti sento il gelo no no io io dico io lo dico da spettatore dico la mia siccome voi volete che ve la dica la dico però lo so benissimo che non è divertente da dire non sa tu cazzo io sono una merda lo dico io così scrivetemi merda stai zitto perché è vero però se mi fai io quando parto non riesco a fermarmi vai allora e c'è la a parte che fanno il servizio con le musichina per rinforzare sul dramma e qui e là c'è tutto come un film lì lì è peggio c'è proprio c'è proprio una sceneggiatura musica e tutto per mandare il fatto accaduto poi parte l'inviato e parla allora come si è detto un attimo mi dovete dare perché se è detto che lui è uscito fuori da casa dal cancello gli hanno sparato va bene allora sentiamo un po' che dice il criminologo allora io penso che lui è uscito dal cancello e gli hanno sparato va bene fanno così no fanno così ma sentiamo che poi c'è qualche signorina qualche signorina con la gamba accavallata che se la comunque da baglia con dietro le quinte e lasciamo fare ma va bene fanno bene non mi cadico io perché non è che siccome signorina è peggio del criminolo anzi il criminolo è forse peggio comunque no se mi posso permettere io vorrei dire che lui non è uscito dal cancello non era dentro casa era fuori dal cancello quando gli hanno sparato è vero è vero tutti si guardano 10, mezzogiorno finisce il primo arriva Rai 2 ora ne dico alcuni ma ce ne è anche molti di più arriva quell'altro che guarda anche Rai Mamba coso come si chiama Milo Infante e cuscia tre schermi con tre inviati diversi aspetta aspetta voglio chiudere la prima puntata abbiamo sentito quello lei ma tu cosa ci dici da là eh Walter quello lì no Walter è il sonno perché sono morto e te come ti chiami Marco ti vedrai bene il mio telefonino davanti all'omicidio Marco tu cosa ci dici sì allora io qui sono qui che appunto da stamani e ho sentito dire appunto che vedete questo è il cancello è il cancello questo dove è accaduto il misfatto e l'hanno trovato lì l'hanno trovato lì ah l'hanno trovato lì no no lì proprio lì ecco io sono qui il cancello è questo lui usciva e l'hanno ammazzato bene ciao li montano nel pulmino la truppetta va andata e torna a casa ecco tutto questo programma vava io le dico una ce ne sapete tutti ce ne ha almeno dieci a programmino di questi affari finisce quello comincia Milo Infante con tre schermi tre inviati tre omicidi diversi no perché ti viene il dubbio di pensare ma non saranno loro che li ammazzano no perché se no che cazzo non sanno famiglia nulla quelli se sono tutti no bolliti di più un nemica gente ah poi c'è quello della vita in diretta quella vita in diretta dice guarda a me mi hanno ammazzato la moglie il babbo la zia la nonna gli mando un grosso abbraccio io guardi la saluto facci caso a tutti lui manda un grosso abbraccio quindi mi verrebbe di dire mandalo alla ma non si può dire veramente io dopo questa puntata emigro all'estero ma tutto questo marcio di cui stai parlando c'è anche nel cinema è solo una cosa di televisore no no ma aspetta non mica finito perché per no non so mi interrompi sui più su quello su cui io mi incazzo più di tutti il gran finale quarto grado no vabbè però no 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 comunque io tanto avete capito che voglio dire tanto sono io che sono perché ora scriveranno pippa meno fai meno perché poi io sono così ma io mi sto sommiare ma questo ma questo è drogato dici che ha smesso non mica vero diciamo così di sicuro però il mio sogno sai quale sarebbe lo volevo fare tipo quello del conti anche lì gli studi Mediaset entro dentro quando non c'è quarto grado piscio su tutti i divani quando non ci sono e poi quando fanno la puntata e trovano tutti i divani appiccicati piccioti io ti sto smutando addosso chiedo scusa io vorrei dire o vediamo se tu scopri chi ha pisciato prendi il dna cazzo marda mandalo l'inviato anche per quello inviati i venti opinionisti grande sta puntata bellissimo la più bella i gurulanti ha fatta finora a mani bassissime se ormai te la vedi male ma se ormai tutti ti amano anche nei momenti ma scusa ma c'è ma stato una volta che uno ha scoperto ma lascia fare alla polizia le cose no perché anche lì pure il microfono non ne può più vedi sa moscia perché anche lì non gliene frega nulla di quello ucciso di quello capito è tutto spettacolo è tutta cosa lì è come ora via non mi fa dire cose di mafia perché vorrei dire potrei dire anche lì cioè casi di mafia non faccio nomi che tutti conosciamo che tutti sappiamo di due grandissimi che fuori classe lo sapete tutti chi sono ma non solo loro eh tanti ci sono tanti cioè per esempio voi che se io vi auguro a voi che vi piace fare questo lavoro e che siete bravi ragazzi non sto scherzando ma voi dovete sentire le puntate e lo dico anche chi ci ascolta se qualcuno non le ha sentite di Peppino Impastato che faceva alla sua radio non solo diceva quello che tutti sappiamo e aveva vabbè un coraggio da disumano perché lo diceva lì e tutte le cose ma faceva pure il comico faceva ridere era un comico era pure bravo cioè faceva la saggia pigliava per culo i mafiosi ma faceva non è che gli diceva merda faceva delle cose e quindi perché ho detto sta cosa ah ecco no volevo dire anche lì no tutte queste ora questo Peppino Impastato l'ho detta perché mi avete fatto ricordo a voi con i microfoni così ma cose che si sanno e non si sanno da 20-30 anni ma fa comodo lasciare sempre a mezz'acqua bravo così io mi faccio una puntata di televisione hai visto quello lì che c'è ora su Rai 3 come si chiama è lato bene buonasera ciao sono come si chiama mi viene in nome sono ma la guardo poco quello che c'ha quella voce è la mafia e capiremo vedrete scoppe sulla mafia come cazzo si chiama Rai 3 poi fa l'Oeste come si chiama comito il programma chi lo fa ci viene va bene comunque no ma non voglio non è per offendere lui però ti incitano capito una cosa così fanno un'intera puntata bravo ma non è per dire lui lui per dire altri poi voglio dire anche l'ultima poi me ne vado davvero cioè non è per lui però puntata ultime novità scoop scoop e finalmente forse queste mezze paroline perché uno come la carpa che vede la stappe alla massima poi il programma non c'è nessuno scoop ma ci so tutta la puntatella sfruttando i morti sfruttando chi è morto e chi è morto lo sappiamo tutti capolavori assoluti geni dell'umanità dell'umanità persone incredibili sfruttate anche da morti capito voi bolliti televisivi senza un'idea senza sapere fare un cazzo prendete i soldi pagati per sfruttare il morto e fare il programma non scoprendo un cazzo non aggiungendo niente e e e e rimane fruttosi e rimane sempre tutto così anzi spesso distorgono anche quello com'è andato realmente sì sì ma però l'importante lo scopo comunque è quello sempre comunque di cioè di fatti arrivare vicino eh 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 alla fine poi vanno a vedere la scopo poi muoiono tutti anche questi perché sono tutta robetta ormai siamo inflazionati le cose però è sempre è sempre capito non è mai cioè come posso dire cioè non è mai cioè non è che io cioè io vorrei vedere uno che fa una puntata su per esempio adesso parliamo di loro parliamo ora non voglio fare i nomi perché non voglio fare quello quello che dice le cose giuste e sta zitto e non dice nulla perché non sa che dire perché ogni volta che ci pensa io ogni volta che ci penso dico sempre ma come può essere esistito gente così come si fa vuol dire che veramente c'è nel mondo c'è della gente vuol dire che la vita non va tutta su un binario unico c'è delle esplosioni di capolavori di disumani non so che cazzo ho detto però avete capito no capito io voglio il rispetto allora se c'ho da dire qualcosa veramente di novità la dico ma se no sto zitto che cazzo faccio l'annuncio lo spot e allora anche se ho visto una strage d'erba quarto grado un'ora e mezzo di servizio le musiche tutti qui e là tutti i braccio poi sempre i filmati sono sempre i soliti capito fanno montaggio nuovo ma è sempre la stessa roba cioè non c'è proprio regola non c'è regola tutto per l'ascoltino ma allora dice ma questi della televisione questi fanno l'ascoltino come vivano dopo cioè lo sai che fanno quando fanno la puntata dopo vanno a cena vanno a cena io lo so perché ci sono entravo sai una volta a Roma sto veramente parlando troppo io sapevo dove andavano a mangiare i televisivi da Dante un posto si chiama da Dante vanno quelli di una televisione solo che ci andavo un briago però li vedevo ti puoi immaginare glielo dicevo e mi hanno buttato fuori non l'ho fatto più scudati il veleno ma sì così poi ti ripeto io non sono quello giusto io la dico come la penso io però mi fanno una rabbia micidiale perché non c'è proprio non sei nulla non è perché per esempio chiudo qui non si capisce come mai scusa Giletti che io non è che dico di Giletti no no aspetta che ho visto anche la puntata ho visto Corona che ha risposto in una maniera intelligente intelligente come lui lo è a me mi piace lui dice alcune volte un po' meno ma poi sono cazzi su a cazzi mia ma dico ve lo ricordate quando buttarono fuori che Berlusconi buttarono fuori come si chiama buttarono fuori quello lì quel comico e piaci no guzzanti no quell'altro quello lì quello lì adesso non mi viene il nome c'era Travaglio ospite una delle prime volte lui il comico insomma vabbè buttò fuori insomma li buttarono fuori fecero un po' di e sembrava cioè tutti a parlarne in televisione tutti a parlarne Rai 3 capito la sinistra tutti a parlarne non so se sto sbagliando però io mi ricordo che tutti ne parlavano perché perché erano in innocui perché avevano fatto queste cose però era la cosa la cosa interessante era ma come è possibile ma qui non c'è libertà ma come buttate fuori tutte chiacchiere svanite così però chiacchiere non capisco come mai i giletti che l'hanno fatta molto più grave l'hanno fatto sparire da un giorno a un altro e nessuno dice un cazzo nessuno dice niente perché perché giletti che ti ripeto io giletti non è che a me mi piaceva proprio io anzi ho avuto un incontro con giletti quasi stanno arrivando ma vengono tutti i giorni ora da lì mi portano ai podcast di cose di cireglio no no chiudo la diosa di giletti certo sì io con giletti vabbè c'ho avuto anche una mezzalite quindi non è che però devo dire che lui stava facendo una cosa che veramente stava indagando cazzo non faceva come fanno tutti aveva le inchieste serie e allora hanno detto oh sta rotti il cazzo facciamolo sparire ma facciamolo sparire va bene sono cose che le abbiamo già viste tipo ve le ho detto prima ma il dopo che tutto oh ma nessuno tu per sentire qualcuno le dice qualcosa ai giletti devi andare a scrivere giletti buttato fuori allora lo vediamo qualcuno nessuno ha detto cioè il silenzio dopo quello mi fa pensare che comunque sia alla fin fine ora ci chiudono il canale anche a noi perché abbiamo parlato di giletti ma di sicuro secondo me questo pezzo qui ma sai io sono come ti ripeto ma da questo chi vuole voglio un attimo tornare poi ti lascio no ma basta anche io le ultimissime domande ma di fortuna si può mandare avanti le ultimissime domande veloce voglio tornare un attimo su di te però hai fatto 800 miliardi di film ce n'è uno un particolare qual è il tuo preferito quello che ti ricordi quello che ti piace di più di tutti sono curioso di sapere ma no ma io su questa risposta vabbè io cioè i film non è che posso dire c'è uno cioè il personaggio che hai interpretato e ti piace di più non so che ricordi dai cosa dai ma no il cilone laureato intanto io di gusto mio da spettatore non mi piacciono più altri film e non ti piace di vederti che ti piace no no film comici mi possono piacere ma non sono proprio che mi piace il film comico poi sai come io insomma cioè perché ora sai tutti anche sempre a dire ah quello è un comico comico comici cioè a me piace mi piacciono molti film veri mi piacciono i film di Alberto Sordi ma si sa tutti cioè capolavori quelli lì Alberto Sordi Totò quelli lì però altri film adesso non mi viene in mente no ma che ah ma dove ci sono io ma dove ci sono io no io non lo so invece non riesco a dire cose su di me ma no perché proprio perché no ma io non è che io comunque ho passione io quando io favo una cosa mi può riuscire o non riuscire quello dipende anche dalla mia dal mio cioè la mia misura di talento cioè se riesco non riesco però io per me se mi ridono godo come a dei livelli proprio godo come un pazzo se sento il gelo sto dun male cioè ma questo da sempre eh da quando facevo gli spettacoli col Paci noi anche il Paci lo racconta non mi ricordo dove l'ho raccontato in clinica dove stavo no scherzo no però l'ha raccontato noi all'inizio quando facevamo gli spettacoli di cabaret se facevamo ridere siccome si aveva una borsettina con la parrucca le cose se si faceva cagare per la vergogna ha finito lo spettacolo si faceva finta di cercare la roba nella borsa ma dove ho messo la parrucca aspettando che il pubblico si tiratasse ma pure la parrucca era qui e una volta il babbo del Paci ci bussò da teso sulla schiena e invece vi vergognate eh era troppo avanti il babbo del Paci e invece Massimo come ti prepari al personaggio quando lo devi recitare cioè zero? Pieraccioni dice a te non leggi copioni sì cioè che te sei un artista vero perché non leggi copioni vabbè io sono uno che andrebbe arrestato perché poi soprattutto tutto per l'ottentona però attenzione io a me nella vita mia ora vabbè non questo non la viene no perché io ho fatto degli incontri a un carcere ho sentito uno strano feeling ma sia te lo giuro io sono stato al carcere di Sulmona ma tanti anni fa dove proiettavano un film dove c'ero anch'io no c'era anch'io mi sape che era proprio quello lì e poi ci si incontrava i carcerati e c'era una striscia però che ci divideva la vita noi tipo x factor c'erano a sedere e loro facevano le domande però appena sono arrivato io uno si è alzato no appena è iniziato il dibattito diciamo il primo si è alzato e ha detto se io c'è chi ma lei è così o prende qualche droga e puoi ridere io ho sentito ma al di là non è che era una battuta ho sentito subito che mi sarei imparentato cioè volevo scavalcare quasi ho detto ma io perché cioè mi diverti non voglio far quello però diciamo che se dovesse accadere poi sono stato anche altre volte a visitare delle carceri non è perché uno è in carcere e ti diverti pure ora queste sono cose chiaramente come si permette ma nel senso umano cioè non è che e io ho sentito anche quell'attrazione lì tantissime volte quindi diciamo che sono attore come tu per dire capito come enti nel personale sono tutte cose che a me non mi appartengono perché forse non sono nemmeno un attore che chiaro cioè io vado faccio cioè anche con Leonardo come diceva lui non è che non leggo i copioni perché se no sembra uno e non gliene frega un cazzo no che c'è da dire oggi arrivo con la sciarpina no cazzo io soffro un monte ti ho detto quando favo una cosa brutta e l'ho fatta 9 su 10 soffro tanto infatti non voglio rivedere qui e là quindi mi impegno però c'è un modo mio da da in bianchino perché io sono in bianchino sono muratore in bianchino da sempre quindi c'è un modo così non lo so se è giusto sbagliato qui e là però io cioè io tantissime volte per esempio per dire si fa una scena io domando prima di farla dico ma perché io dico questa cosa no perché non so la storia capito ma per chi è lei quella che gliela dico ma non ti ripeto perché mi viene così capito gelo totale super interessante invece ti va di raccontarci l'esperienza che aveva fatto in Africa cioè com'è andata lì si è andato com'è stata l'esperienza capito ma quanto dura quanto siamo quanto siamo saremo a 50 un'ora e mezza 10 minuti ma più lunga gli sgarbi erano un'ora e 15 io ti giuro pensavo erano passati 30 minuti diciamo tu metti la mia tutta la punta un'ora e mezza sì ma vera sì t'ho detto sto sempre zitto ve lo dicono anche altri basta dai moglie t'ho detto c'è messa le cuffie c'è la cuffia qui sente la musichina finge ma in realtà cioè non riesca a smettere lo so sto zitto a mesi ma ti farebbe piacere raccontarci l'Africa o non c'è no ma piacere ti ho detto piacere io posso parlare a piatte tre ore no no facciamo 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 no ma perché facciamo una seconda parte facciamo due puntate ti richiamiamo rivieni ci rivieni no 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 solo non rivengo ma se vi incontro proprio io vi saluto ma a due massimo ma voglio fare una puntata con un altro magari con che be o con Pieraccioni Pieraccioni eh si potrebbe fare una puntata no io l'ho chiesta piacere non viene non viene convincerlo voi chiamolo diretti chiamolo diretti chiamolo diretti chiamolo diretti chiamolo diretti chiamolo diretti no 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 non c'è non c'è non c'è si scrivono con lo sconosciuto direi basta scusa aspetta fammi dire tutto quello che ho detto ho forse ho fresicchiato un po' qualcuno sappiate che comunque io lo penso la firma la firma la firma massimo massimo comunque a me non mi hai fatto delle domandine domanda o piano vuoi andare via no no fai il film la firma la firma la firma scegli te dove la doga la doga del materasso come vuoi se vuoi puoi scegli anche tipo lì c'è stato Vittorio Sgarbi lì vicino vada là bella roba c'è un racconto bello concludiamolo dai concludiamo con questo racconto concludiamo con questo racconto facci l'ultimo racconto dai l'ultimo racconto di Sgarbi se non metti l'ultimo noi non c'era andiamo no perché non andai io mi portò il principe Giovannelli il mitico principe Giovannelli ora non c'è più è morto che era questo personaggio a Roma anziano che però viaggiava nei locali la notte conosceva tutti insomma un principe Giovannelli se non l'avevi mai visto non so che dire ti portò a casa no no non la posso dire questo no anche perché l'ho già raccontata no è vero io te lo dico siamo a livelli forse più alti del Dash no perché l'ho già raccontata in questo film documentario Roma santa o dannata questa cosa io forse lo so è una cosa carina non è mica una cosa io forse lo so ma già la sapevi? come facevi a saperla? ma per caso quello delle prostitute? quello delle prostitute per caso no vabbè le prostitute ha detto peggio se stai lui ah si de bunga bunga no no ma non era 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 no dai no ho deciso no ciao ciao sono andati tutti via ragazzi stanno se stanno tutti andando via ciao ragazzi grazie ciao e' rilandia pom bello sarebbe ma secondo me l'ho pensato anche voi due che non avete coraggio di tenere ma ah ah ah